ragazzuoli ciao a tutti belli e brutti buona giornata da michelone oggi parliamo di regalo oggi prepariamo il primo pacco da spedire perché sapete uno primo regalo è stato assegnato ora impacchettiamo il tutto mettiamo un po di carta che non che non balli che non vale troppo un po grandicello per mostrarvi che michelone non conta non conta palle allora questo per dire che c'è ancora un pacco un regalo con un pacchettino ci sono tre tre dentro gadget tre pensierini che michelone regala ai fedelissimi perché è giusto così quindi vediamo che non si spacchi tutto così non balla così ti arriva sano e salvo chiusura quindi come vi dicevo primo pacco incerotato tutto inscocciato tutto domani andiamo a spedirlo quindi ragazzo tu che mi guardi come promesso oggi te lo preparo dopo mettiamo il nome e tutto quanto e domani spediamo ricordo agli amici che c'è ancora come dicevo uno da spedire qui dentro ci sono ripeto tre gadget chi li vuole chi li vuole ragazzi se vuoi mi scrivi magari qui già sotto sul sul video se no mi scrivete sulla mia mail mi k y t r l 10 chiocciola gmail.com il primo che il primo che che arriva questo qui è suo poi ripeto iscrivetevi al canale perché quando arriveremo a 400 ho promesso un regalo originale originale ragazzi iscrivetevi al canale perché quello lì è un regalone quello lì lo farò scegliere lo farò scegliere addirittura ok ragazzi questo volevo dirvi iscrivetevi ovviamente al canale di michelone iscrivetevi anche l'altro canale che metterò il link in descrizione quello della gattina un saluto a tutti i belli brutti un saluto da michelone che vi vuole bene a tutti e ricordatevi che un iscritto al giorno toglie il medico di tono ciao ragazzi e buona giornata